Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. L'orchestra sinfonica Rossini sarà una delle prime orchestre italiane ad esibirsi all'estero dopo il periodo pandemico di questi ultimi due anni. L'occasione giunge per celebrare la conclusione della presidenza italiana del Consiglio d'Europa. L'orchestra sinfonica Rossini, infatti, sarà protagonista di un concerto straordinario in programma sabato sera nella Sala Grande dell'Ateneo Romeno, organizzato dall'Ambasciata d'Italia. Torniamo finalmente all'estero, la nostra attività internazionale riprende dopo l'anno di Covid, riprende con le migliori auspici in una delle sale più prestigiose del mondo, la sala dove suona la filarmonica Enesco, una sala piena di storia, per un evento istituzionale estremamente significativo, la chiusura della semestre di presidenza italiana del Consiglio di Ministri d'Europa e di fronte a un pubblico tra i più preparati, più attenti e più appassionati del mondo, davvero del mondo. Quali saranno le composizioni nelle quali vi esibire? Abbiamo concordato con la Sua Eccellenza l'Ambasciatore Durante, che è il vero artefice di questa grandiosa iniziativa, un programma dove sono rappresentati tutti i maggiori operisti italiani, da Rossini fino a Puccini, proprio davvero tutti, ma con brani non i soliti, quelli che si sentono normalmente nei concerti di ricosinfonici, ma brani anche accattivanti e poco eseguiti. Grazie.